come si pescano i buratelli appunto questo è un video dimostrativo come si pesca il buratello e dove si pesca il buratello nei periodi appunto di pioggia si va in queste zone salmastre lagunari dove appunto il buratello viene a deporre le uova e scuscia così nelle paludi allora oggi siamo qui appunto a far vedere come si pesca il buratello poi ci si muove perché il buratello non è un pesce come gli altri che va a mangiare la sua esca ma il buratello appunto all'iristrattoni bisogna impigliarlo hai capito e notare la canna che ci vuole perché la canna perché il buratello quando tira tira il buratello il buratello tira ed è fondamentale la pipa perché come famoso il detto la pesca la vuol'attività e zucca e vuoi fonte l'anatra l'anatra la vuoi guas e la figa la vuoi casa pipa canna canna pipa e tira e tira anche qui c'è un bel divieto di pesca però noi per la salvaguardia del buratello appunto li peschiamo e li mettiamo dove sopravvivono i buratelli che altrimenti qui morirebbero perché poi quest'acqua prima poi si asciuga eh non rimane qui sempre e si cammina si cercano appunto questi buratelli tira il buratello eh oh 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 cosa vedo oh oh eh eh facciamo vedere ecco 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 facciamo vedere veniamo a favore di telecamera facciamo vedere appunto che abbiamo appena preso due buratelli buongiorno e allora ho preso questi buratelli così non volevo dire dove siamo però volevo dire sei sulla schiena del buratello tutti ce l'hanno proprio con te